Oggi faccio il riassunto della mia esperienza a Los Angeles e vediamo nel dettaglio quanto speso al centesimo per la mia permanenza qui. Poi come sempre, nel finale facciamo tutte le sommatorie e analisi del caso. E dato che questa è stata anche la mia ultima settimana negli States, facciamo anche il totalone di quanto speso per un mese qui, includendo anche tutte le altre settimane tra New York, Miami e San Francisco. Ma ora partiamo con il riassunto di Los Angeles con tutte le spese man mano che il viaggio ci evolve. Il 6 febbraio, come avete visto, sono arrivato a Los Angeles con un volo da San Francisco. Come sempre, dato che il costo del volo dipende da dove arrivate, non lo includiamo mai nel totalone. Però se dovesse interessarvi, quel volo da San Francisco a Los Angeles l'ho pagato 5 dollari e 60. Per il semplice motivo che il resto l'ho pagato con i punti Amex. Tra l'altro questa è la prima volta che provo a convertire i punti American Express con quelli di una compagnia aerea. Di solito li spendo in altri modi, però comunque grazie Amex e voi andate a riprendere il video che ci avevo fatto se volete approfondire. In ogni caso, il 6 febbraio, dopo essere arrivato a Los Angeles, la primissima spesa che ho affrontato in assoluto, 294,89 dollari. Divisa in due perché a Los Angeles mi ha raggiunto un amico con cui ho passato la settimana e questa è già la mia parte, quindi è già stata divisa questa cifra. Abbiamo preso con Turo una sorta di Airbnb per il noleggio di macchine, una Ford Mustang del 2019. Bellissima, decapotabile. Qui a Los Angeles tutti quanti mi hanno consigliato di prendere in affitto una macchina perché la città si estende a macchia d'olio e tornando indietro sono contento di averla presa perché altrimenti avremmo vissuto, penso, un decimo di quello che è da offrire la città. Comunque, dopo aver recuperato la macchina, mentre aspettavo l'arrivo del mio amico perché il suo aereo arrivava un paio d'ore dopo, dato che era il tramonto e le luci erano spettacolari, ho fatto subito un giro a Venice Beach. Dopodiché sono tornato indietro in aeroporto, ho recuperato Davide, il mio amico, e insieme ci siamo diretti al nostro hotel, il Stay at Sunset a West Hollywood. Lì in realtà avevo prenotato sei notti e sette giorni, anche se poi tra una cosa e l'altra, dormendo a Las Vegas una notte e andando via un giorno prima del dovuto, ci abbiamo dormito soltanto quattro notti. Comunque, per sei notti, già diviso per due, ho pagato 535,46 dollari, colazione compresa. Poi, qui, dato che stiamo parlando di hotel e luoghi pubblici, un servizio che per me è prerogativa anche per lavorare in sicurezza, che però non vado ad includere nel totalone anche perché fortunatamente collaboro con loro, è NordVPN. Un servizio che protegge la vostra, la mia navigazione, rendendo anonimo tutto il vostro flusso di dati con la rete, cosa essenziale quando ci si va a connettere a reti wifi pubbliche, come quella di questo hotel, dove oltre a noi potrebbe essere connesso chiunque altro. Poi, oltre a questo, io uso moltissimo il loro servizio per accedere a servizi che non sono disponibili nei paesi dove viaggio. L'esempio più popolare ora è quando ChatGPT era stato bandito per un periodo qui in Italia, bastava banalmente usare un servizio di VPN come NordVPN, connettersi a un host in Francia e, voilà, si poteva continuare ad utilizzare ChatGPT. Voi, se volete provare questo servizio, vi lascio qui sotto un link bonus che vi permette di avere un mese gratis e più del 50% di sconto se scegliete i piani biennali. E, oltretutto, avete anche 30 giorni di soddisfatti o rimborsati. Andando avanti, dopo aver sistemato le nostre cose in hotel, siamo usciti a piedi a West Hollywood per mangiare in quello che mi hanno descritto come uno dei più famosi fast food della California, l'in-and-out burger. E se devo essere sincero, come qualità-prezzo penso sia stato il miglior fast food che ho visitato durante il mio mese di permanenza negli Stati Uniti. Perché per 9,58 dollari ho mangiato un buonissimo hamburger, patatine e refill di qualsiasi bibita volessi. Dopodiché, tutti a nanna, 7 febbraio, e questa è una parte della storia che vi racconto giusto per poi ricordarmela in futuro, Davide, il mio amico, era venuto qui a Los Angeles per cercare di vedere il record di punti NBA di LeBron James. E come potete immaginare, Davide è patito di NBA. E secondo stime, il record LeBron avrebbe dovuto romperlo il 9 febbraio, nella partita Lakers contro Bucks. E noi, settimane prima, spendendo una fucilata, e dopo vi dirò quanto, abbiamo comprato i biglietti per andare a vedere quella partita. Il 7 febbraio, però, i Lakers giocavano un'altra partita e noi non avevamo preso il biglietto per quella partita. Anche se a LeBron quel giorno mancavano 36 punti, quindi non era completamente infattibile che lui battesse il record già il 7 febbraio. Perciò, la mattina di quel giorno, dopo aver fatto colazione, gli faccio a Davide. Dade, non è che secondo te è meglio se controlliamo anche i biglietti per questa partita? Perché se batte il record questa sera, tu torni a casa piangendo. E fortuna vuole che quella mattina abbiamo comprato i biglietti, che tra l'altro costavano un terzo rispetto a quelli che abbiamo pagato per l'altra partita. A testa, per la partita di quella sera, abbiamo speso 152,77 dollari. E fortuna che abbiamo fatto quell'acquisto perché, come avete visto poi anche dal mio video, quella sera poi LeBron ha battuto il record. Però ora ci arriviamo, chiudo la parentesi, ora continuiamo con la giornata. Comprati i biglietti, fatta colazione, inclusa nel prezzo dell'hotel, quel giorno siamo andati agli Universal Studios. Per il parcheggio 15 dollari, per il biglietto 109 dollari a testa. Ragazzi, io non sono un amante dei parchi di divertimento, però devo dire che quella giornata è passata veramente da Dio. Mi sono divertito un sacco e la tematizzazione di quel parco di divertimenti mi ha fatto tornare bambino. Approvato! Comunque, sempre agli Universal Studios, ho speso 21,34 dollari per mangiare e bere una Caesar salad, mi pare, in un ristorante tematizzato dei Simpson. Dopodiché, sempre dentro agli Studios dell'Universal, per 14,87 dollari, ho preso due caffè, offrendone uno ad Ade, da Starbucks. Poi, finita la nostra visita lì, vedendo anche tutti i magazzini dove realizzano i film che alla fine mi hanno o ci hanno cresciuto, dato che eravamo vicini, siamo andati a vedere e fare due foto all'insegna di Hollywood e c'era una luce con il tramonto veramente spettacolare, foto ben riuscite. Poi da lì, pit stop in hotel e siamo andati diretti, velocissimi alla partita, dove per 17,50 dollari abbiamo pagato il parcheggio della Crypto.com Arena e per 152,77 dollari ho pagato un biglietto per entrare. E lì, alla fine del secondo quarto, per cenare, abbiamo preso dei Nachos con Bibita, 24 dollari e 63 centesimi. E non ve lo dico neanche, quella partita, partita in cui LeBron James ha battuto il record di punti, veramente brividi, andatevi sul serio a riprendere il video, secondo me è fantastico, gli eventi sportivi in America sono uno show. Poi ci hanno anche regalato la maglietta all'uscita, in commemorazione dell'evento storico spaziale. 8 febbraio, dopo esserci svegliati e aver fatto colazione, abbiamo approfittato del fatto che avevamo la macchina e ci siamo subito diretti a San Diego, al confine con il Messico. Per strada ci siamo fermati e per 27,50 dollari abbiamo fatto un po' di benzina e dopo aver cercato di andare il più vicino possibile al confine con il Messico, al confine con Tijuana e aver visto il muro che è impressionante, si riesce addirittura a vedere cosa succede in Messico perché Tijuana è sopraerevata rispetto a San Diego. Dato che non volevamo perdere ore per entrare e uscire dal Messico e non eravamo neanche sicuri di avere tutti i documenti e non volevamo rischiare, al posto di varcare il confine l'abbiamo soltanto guardato, giusto per vedere che cavolo c'era, e siamo tornati al centro di San Diego. Dato che eravamo vicini al Messico, abbiamo fatto esperienza messicana mangiando dei tacos veramente buonissimi da Amigos Tacos e per il tramonto dopo aver fatto un giretto lì a San Diego ci siamo diretti a Coronado Beach dove sono passati una quantità di elicotteri, aerei, sorveglianza impossibile e comunque il tramonto è stato in ogni caso fantastico davanti a queste super mega regge ville, bellissimo. In California i colori al tramonto, anche a febbraio, nulla da dire, mi è piaciuta molto da questo punto di vista la California. Dopodiché rientro verso Los Angeles e a metà strada ci siamo fermati in questa sorta di area di sosta dove c'erano le vending machine e ho speso 5 dollari e 30 centesimi per una Monster e un'altra cosa da bere di cui non ricordo. Arrivati nel nostro hotel, dato che i giorni successivi avevamo in mente di andare a Las Vegas, siamo andati a fare il rifornimento di acqua e cibo da Ralph, il supermercato che avevamo davanti all'hotel e abbiamo speso a testa 17 dollari e 50. 9 febbraio dopo aver fatto colazione ed esserci svegliati con calma anche perché dovevamo recuperare il viaggio del giorno prima perché comunque da Los Angeles a San Diego sono sempre 2-3 ore di viaggio andata e 2-3 ore di ritorno e diciamo che rispetto alle altre tre settimane tra New York, Miami e San Francisco, qui a Los Angeles ho fatto molta più vacanza rispetto a tutto quello che avevo lavorato negli altri città. In ogni caso, dato che sapevo che in California la cannabis era legale, ho voluto assolutamente visitare un coffee shop e lì per 16 dollari e 50 abbiamo preso delle cannettine, non so se si chiamano così in gergo tecnico, e per 33 dollari abbiamo preso delle patatine col THC dentro. E se devo essere sincero, questo lo dico da non fumatore, in quel negozio, ristorante, galleria, perché era una sorta anche di gioielleria, esperienza folle, cioè andatevi a riprendere il video che ho fatto perché io sono rimasto a bocca aperta di come la cultura legata a questa sostanza e anche il business legato a questa sostanza in questa regione del mondo sia così avanzato. Molto molto interessante, magari anche da prendere spunto per l'Italia, non lo so, non voglio esprimermi a riguardo perché non ho abbastanza informazioni, però sicuramente da osservare, da guardare, da scoprire. Proprio per questo motivo ci sono anche andato. Dopodiché da quel negozio siamo andati in un centro commerciale dove dovevo ritirare dei prodotti Apple e lì ho preso un MacBook Pro, un MacBook Air, un iMac e un iPhone. Questi prodotti non li includerò nel totalone perché sono per altri progetti, sono per altre cose, quindi non ha senso che sto qui a dirvi il prezzo e faccio anche il conto di quei prodotti. Li ho presi banalmente perché negli Stati Uniti i prodotti Apple costano meno e diciamo che poi è stata anche un'avventura impacchettarli tutti e riportarli verso casa. Però vabbè, alla fine sono riuscito a risparmiare qualcosa. Dopodiché, dato che non avevamo ancora visto la spiaggia di Los Angeles, ci siamo diretti verso Santa Monica Pier dove si può vedere la fine della Route 66, questa strada famosissima che taglia gli Stati Uniti riprese in miliardi di film. Da Santa Monica Pier comunque abbiamo visto il tramonto, sempre bellissimo, e il molo tra l'altro divide Venice Beach con Santa Monica Beach, quindi da lì siamo riusciti a vedere anche entrambe. Comunque, per il parcheggio lì abbiamo speso 5 dollari e 50 e è uno sbatti avere una macchina e parcheggiarla comunque. Ogni volta pensare devo parcheggiare la macchina dove la lascio, dove la metto, sono fiero di non aver mai posseduto una macchina in vita mia e spero di non dover mai più possederla, sinceramente quasi. In ogni caso, lì nel molo per 8 dollari ho preso un panino perché era arrivata ora di cena e dopodiché ci siamo diretti nuovamente alla Crypto Arena per vedere la partita dove pensavamo LeBron avesse rotto il record. Invece, in quella partita LeBron non ha nemmeno giocato. Per fortuna che due giorni prima ho detto a Dade acquistiamo quest'altro biglietto perché altrimenti lui probabilmente non l'avrebbe vissuta bene dato che è venuto a Los Angeles dal bignasego di Padova solo per vedere il record di LeBron. E tra l'altro per quella partita abbiamo speso tre volte tanto 538 dollari oltre ai 17,50 dollari per il parcheggio della Crypto Arena. Il pro di quella partita, e i Lakers hanno perso anche quella partita, è che almeno abbiamo visto Giannis. 10 febbraio, sveglia presto la mattina e ci siamo diretti a Las Vegas. Prima cosa in assoluto, 25 dollari benzina per arrivarci. Anche perché per arrivarci in macchina sono 4-5 ore di strada e si passa per la Valle della Morte dove c'è deserto e non c'è niente per chilometri e chilometri. Infatti avevamo fatto anche rifornimento di cibo e acqua. Sai mai! Poi comunque passa una valanga di gente per quella strada. Però, per sicurezza. Nella strada per arrivare a Las Vegas ci siamo fermati in un ristorante greco in mezzo al nulla dove il pranzo me l'ha offerto Dade. E dopodiché continuando la strada per questi paesaggi veramente mistici, particolari, molto belli, caratteristici, Siamo arrivati al Flamingo, questo famosissimo hotel con il pellicano dove poi avremmo dormito la sera e tra l'altro non abbiamo speso neanche tantissimo perché abbiamo speso 55 dollari a testa. E sinceramente mi ha fatto parecchio tristezza come città. Innanzitutto sembra finta ma ad un livello di finto. Dubai è finto qui, Las Vegas è finto ma proprio su. Cioè, finto! E oltretutto mi ha fatto tristezza perché anche girando, cioè almeno nel centro perché noi ci siamo concentrati nel punto turistico, nel punto centrale dove ci sono tutti i casinò, dove c'è tutta quella industria pazza del betting. Cioè lì la gente ci va per scommettere. Poi per carità non siamo entrati dentro nessuna festa perché non avevo intenzione di lasciare le penne lì a Las Vegas e poi il giorno successivo Dade avrebbe dovuto prendere l'aereo per tornare in Italia. Sicuramente è il luogo da vedere però non è che mi sia piaciuto chissà cosa a Las Vegas. Comunque come ogni buon turista ho buttato anch'io 50 dollari cash così dentro le macchinette tanto per giocare e provare questa adrenalina del gioco d'azzardo. Voi se proprio volete buttate via 20-50 dollari giusto per dire ho giocato a Las Vegas però è matematicamente certo che con il gioco d'azzardo perderete tutti i vostri soldi. Se volete farlo buttate via pochi soldi ma sappiate che li state buttando via. Poi quella notte oltre 50 dollari buttati in macchinette varie abbiamo speso 19 dollari e 49 per dei caffè allo Starbucks e 15 dollari per mangiare dentro al McDonald's. Il giorno dopo 11 febbraio rientro verso Los Angeles. Davide il pomeriggio aveva il volo per tornare in Italia. Io invece in realtà secondo i piani iniziali avevo già il volo il giorno successivo e quindi avrei dovuto avere un'altra notte e un altro giorno lì a Los Angeles. Però diciamo che mi è arrivata una proposta folle per andare in Indonesia e quindi sono tornato anch'io lo stesso giorno e mentre stavamo tornando da Las Vegas stavo prenotando e cambiando tutti i voli perché dovevo un attimo rigiostrare le cose. Comunque se vi iscrivete al canale nei prossimi video vedrete anche tutto quello che è successo poi. In ogni caso quel giorno dopo essere arrivati a Los Angeles abbiamo speso 35 dollari a testa per fare il pieno e restituire la macchina con la benzina e ho speso 100 dollari di questo bagaglio enorme dove dentro dovevo mettere l'iMac, il MacBook insomma tutte le cose belle impacchettate in modo tale che fossi in grado di portare con me gli oggetti Apple che avevo comprato. Dopodiché per entrambi direzione aeroporto Davide è tornato in Italia e io mi sono diretto verso l'Indonesia cercando anche di completare il giro per il mondo perché verso l'Indonesia sono tornato dall'oceano Pacifico. Però quella è un'altra storia che vedrete nei prossimi video. Detto questo arrivati qui facciamo tutti i totaloni delle mie spese qui a Los Angeles così possiamo anche tirare tutte le cifre di quanto ho speso per questo mese negli Stati Uniti. Come sempre divido tutto per categorie. Prima categoria spesa in supermercato pesa l'1,04% delle spese totale a Los Angeles 22 dollari e 80 centesimi. Seconda categoria internet a Los Angeles non ho speso niente perché avevo già preso la sim e l'abbonamento a New York quindi zero. Terza categoria shopping pesa il 4,55% e sono i 100 dollari della valigia. Quarta categoria cibo che include tutti i ristoranti e tutte le spese per manià escluso al supermercato. Pesa il 6,73% del totale 148 dollari e 12 centesimi. Quinta categoria trasporti e qui ho speso molto di più rispetto alle altre città anche perché qui avevo la macchina e anche perché qui da Los Angeles sono andato a Las Vegas e sono andato a San Diego in macchina quindi diciamo che ho viaggiato molto di più. Sarebbe da fare il confronto se tutti questi viaggi li avessi fatti spostandomi in Uber. Non so quanto avrei speso, magari di più, magari meno, probabilmente di più dato la lunghezza di questi viaggi però non lo so. In ogni caso tutte le spese relative alla macchina quindi parcheggi, benzina e affitto pesano il 19,92%, 437,89 dollari. Dopodiché sesta categoria alloggio ed è la prima volta che la categoria alloggio non è la prima e la più grande della lista soprattutto perché la spesa dell'albergo questa volta l'abbiamo divisa in due dato che non ero da solo, 26,86%, 590,46 dollari. Ed infine ultima categoria, quella che ha pesato di più nelle mie spese qui a Los Angeles intrattenimento e visite, 40,90%, 899,27 dollari. E qui diciamo che il grosso è dovuto alle due partite di NBA e alla visita degli studios dell'Universal. Comunque, tirando le somme, facendo il totalone di tutte le categorie qui a Los Angeles ho speso 2.198,54 dollari. E se vado a riprendere le altre città, a New York ho speso 2.144,07 dollari. A Miami ho speso 1.902,62 dollari. A San Francisco ho speso 1.919,75 dollari. Come potete notare, Los Angeles è la città dove ho speso di più in assoluto e questo è dovuto al fatto che in quest'ultima settimana anche perché ero con questo mio amico, con Davide, diciamo che ho fatto relativamente più vacanza. Mi sono più che altro rilassato e ho goduto di diverse esperienze come avete potuto vedere da tutti i video che ho fatto qui a Los Angeles. Se una persona volesse essere frugale, di modi per risparmiare ce ne sono a bizzeffe e qui si potrebbe spendere anche molto, molto meno. Considerate che, per esempio, durante questa settimana ho speso 700 dollari soltanto per andare a vedere due partite NBA. Però sinceramente non me ne pento perché queste due esperienze mi rimarranno tutta la vita. Detto questo, andando a fare un totalone di tutto il mese qui negli Stati Uniti escludendo soltanto i voli da una città all'altra e i voli per arrivare e andarmene perché quelli variano in base al periodo dell'anno e in base soprattutto a dove partite riepilogando dalla città dove ho speso meno soldi e qui in descrizione vi lascio tutti i video dei riepiloghi delle spese che ho fatto in quelle città la città dove ho speso meno è Miami con 1902,62 dollari dopodiché San Francisco 1919,75 dollari New York 2144,07 dollari ed infine Los Angeles 2198,54 dollari per un totale in questo mese negli Stati Uniti di 8164,98 dollari. E ragazzi, se devo dire, sono soddisfatto perché mi ero dato un budget di 2.000 dollari a città e l'abbiamo sforato soltanto di 164 dollari perciò io mi reputo soddisfatto io sono venuto qui con questo budget se voi volete spendere meno vi date un budget differente e cercate delle dinamiche differenti io avevo questa tipologia di budget anche perché sono venuto qui negli Stati Uniti oltre che per fare un'esperienza anche per lavorare e produrre contenuti per il mio canale YouTube come avete visto. Poi un'altra cosa che potrebbe interessarvi se volete andare a vedere effettivamente quanto spende e quanto costa vivere per una persona che vive tutto l'anno in queste città vi lascio per ogni città che ho visitato le interviste che ho fatto con le persone che vivono nelle città che ho visitato tra l'altro possono essere anche piene di spunti per chi vuole trasferirsi in una o l'altra città. Detto questo, da Los Angeles la mia avventura va avanti verso l'Indonesia voi iscrivetevi se non volete perdervi tutti i futuri video e lasciate un mi piace se questo video vi è stato utile e vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!